Amici 17, stasera due fasi eliminatorie Nella puntata odierna nel serale ci saranno parecchie novità, ecco i dettagli. Stasera quinto appuntamento con il serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi. Tante le novità, a partire da alcuni cambiamenti nel meccanismo della gara. . Infatti, ci sarà una doppia fase eliminatoria. Da parte della produzione è stata presa questa scelta, visto che nelle ultime due puntate nessun concorrente ha abbandonato il programma. . Cambiamenti anche per quanto riguarda la commissione esterna. Dopo il ritorno di Ermal Meta, assente settimana scorsa per un concerto al Mediolanum Forum di Milano, questa settimana è prevista unaltra assenza, quella di Marco Bocci. . L'attore non potrà partecipare al programma a causa di problemi di salute. Al suo posto, secondo il sito da Gospia, ci sarà la cantante Arisa. . Per quanto riguarda le performance dei concorrenti durante la gara, stasera avranno l'opportunità di duettare insieme al commissario esterno Ermal Meta e, l'ex direttore artistico del programma, Elisa. . A fine puntata scopriremo chi perderà, purtroppo, il proprio posto nel talento più famoso d'Italia e soprattutto chi sarà il vincitore, che si aggiudicherà di passare direttamente, senza rischiare l'eventuale eliminazione, alla sesta puntata del programma. . Per scoprire tutti gli aggiornamenti, seguite il racconto della diretta, qui su Blasting News, a partire dalle 21. .